La Polizia di Stato di Trieste ha arrestato 10 persone ritenute a capo di una organizzazione criminale dedita alla tratta di esseri umani. Punto di raccolta la Turchia con destinazione Italia e Nord Europa e base fra le province di Trieste, Brescia e Bergamo. Le indagini degli uomini della squadra mobile della Polizia di Frontiera coordinati dal Servizio Centrale Operativo è durata un anno e mezzo. 10 gli arresti in flagranza sia in Italia che all'estero e 14 perquisizioni fra il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia e la Campania. Sono state interessate le città di Trieste, Udine, Bergamo, Brescia e Napoli ed è stata sequestrata una notevole quantità di documenti. Il suo dalizio criminale organizzava il traffico di esseri umani che aveva come punto di raccolta e di partenza la Turchia, mentre la destinazione finale era la Germania ed altri paesi del Nord Europa. I clandestini, un centinaio, quelli entrati illegalmente, che pagavano all'organizzazione fra i 5 e i 10 mila dollari ciascuno, partivano dalla Grecia a bordo di navi o percorrevano la rotta balcanica, nascosti all'interno di furgoni e arrivavano a Trieste. Da qui l'organizzazione li dirottava verso l'Austria attraverso gli ex valichi di confine di Tarvisio, Udine e del Brennero, Bolzano, per raggiungere le mete finali in Germania. L'operazione si avvalsa della collaborazione degli organismi di polizia di Croazia, Slovenia, Austria e Germania. Il blitz ha visto impegnati anche uomini della squadra mobile di Bergamo, Brescia, Udine e Napoli.